Ciao scheletrine e scheletrini, oggi io e il Pink Fluffy Unicorn siamo in un palazzo incancherato ma con qualche chicca carina, quindi seguitemi ed esploriamolo insieme. E intanto mi dondolo un po' su questa comodissima poltrona. Eccoci qua, entriamo in quest'altro marcione, vediamo che cosa ci riserva, qua cesso super easy davvero, eccoci, voilà, eccoci qua, mi sa che dobbiamo andare al piano di sopra perché di qua non c'è niente, grande vuotone e con la colonna sonora della campana vi faccio vedere l'altra stanza, vabbè questo è un bel vuotone, questo è un bel vuotone però dai, anche lui merita di essere esplorato, ecco qua, vabbè qua un po' conciato ma tanto ti porta dall'altra parte, non serve ad entrarsi troppo, ma qui cosa c'è di meraviglioso, legno, bello 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 mamma mia, mio dio che meraviglia, che bello che bello che bello, grazie anche a ecco insomma, vengo accompagnata da chi ha arredato, che almeno mi ha lasciato il posto per fare lo scatto, di qua il giro mamma che bello, che bello, che meraviglia ecco insomma, vengo accompagnata sempre da questa campana e vediamo che cosa ci riserva qua dentro che sono curiosissima, che bella, c'è pure la scatoletta in legno, le valigie che bella quella sedia a dondolo, che bella 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 mi piace, mi piace, e qua? eccoci, ecco l'altra bella stanzina ma che carina, ma che carina fa vedere cosa hai trovato la cipria, no? la cipria rosa cioè, sarà inutilizzabile in quanto incancherata, però e questa cos'è? pelli secche peli, sì, se vuoi incancherarti la pelle no, vabbè, bellissimo questo posto cioè ma vabbè, ma che bello questo cioè queste cose ma pure alimentarsi al plasmon cioè, quanto sarà stata vecchia sta pubblicità comunque ho provato a spolverizzare un po' di questa cipria ed è ancora profumatissima mamma mia proprio quell'odore di vintage che tanto mi piace no, non è odore di canchero adesso apriamo questa dai, dai, sono curiosa apriamo questa apriamo questa no, un po' di crema c'è oh, è ancora profumata è ancora profumata c'è tipo un po' di naftalina più buona questa più buona questa decisamente sì ecco qui sto ballatoio chiuso vabbè lipoetico vabbò insomma secondo me hanno iniziato a ristrutturarla ma poi ciao arrivederci e grazie e la Gianna se ne va giù la 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 e dalla casa con la stanza azzurra e tutti questi vecchi cosmetici io e il Pink Fluffy Unicorn vi salutiamo iscrivetevi al mio gruppo Facebook Curvex for Passion seguitemi su tutti i social come la maledita Feliz e per altri contenuti mi trovate come Miss Urbex alla prossima esplorazione ciao ciao